Andiamo avanti, andiamo avanti, allora è ora di chiamare la terza concorrente, Gloria Bampa! Facciamogli un applauso. Allora, Gloria ha 13 anni, ama cantare e danzare, studia canto e ha partecipato al coro della sigla iniziale del Festival di Castrocano. Canta My Heart Will Go On, di Céline Dion. Prego! Gloria Bampa! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!